C'è l'ora il segno che non interviene te. Sì, sto in studio, dimmi, dimmi, dimmi. Secondo me è riuscire a incanalare quello che io chiamo il flusso. Il flusso comincia a generarsi quando tu dagli altoparlanti non senti più il bisogno di girare una manopola, di cambiare un parametro, a un certo punto ascolti e basta, sei preso da quello che esce. Quello è una buona indicazione, significa che c'è transfer, che l'artista sta cominciando a entrare in risonanza con tutto il sistema e a buttare fuori emozione. La presa diretta è il qui ed ora, non so come dire, Cioè, devi avere la performance subito, buttarla fuori, ma anche fregartene di eventuali errori, di eventuali imprecisioni, perché come diceva appunto Luca, quello che conta è il flusso, no? Cioè, è quello che ti arriva immediatamente. Questa è una presa diretta. Quando fai una presa diretta, quello che devi avere in mente è esattamente quello che vuoi far arrivare alla gente, subito. Questa è una presa diretta, è una presa diretta, è una presa diretta,